Per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, ci saranno due centrotoni, vengono i soppi e svegli fuori. Per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, per fai tutte sti rotoni, e il cervello messo in confono. Invinciam dalla morciola, c'è la chiesa, c'è la scola, la rotonda è stata in messa, e il pespruccio vince adesso. La rotonda che viene dopo, c'è un testo dentro tre bambocci, di bugazza l'armatura, che a guarda e ci fa paura. La rotonda sai Shanghai, chi l'ha fatta tocca a me, un'altra giro chiappando a destra, e ne tacca il mal di testa, e per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, ci saranno due centrotoni, vengono i soppi e svegli fuori. Che per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, per fettute ste rotonde, e il cervello messo in confono. La rotonda a monta e la battese, sa che il vetro è tu spaccato, io la chiappa riattestato, tanto il dato ormai l'ha fatto, le rotonde da Berluni, messe a argirne anche i cerchioni, altre quattro e luttatici, messe fricchi e le busticci, la rotonda a ducce e i snupi, messe in mare anche a stupi, quando il suo verso mi la fa spigi, mi danno sotto le vertigi. Che per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, ci saranno due centrotoni, vengono i soppi e svegli fuori. Per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, per fettute ste rotonde, e il cervello messo in confono. Questa è l'ultima rotonda, ma la testa messa e sfonda, e davanti all'iperconto, messe a argirne anche gli occhi, passa il ponte, mi raffiori, e il vomito di fuori, buco dentro al pro soccorso, e il dottor mi dà demorso, ma so che in tutte ste storie, per tre o quattro rotatori, e non c'è il posto in l'ospedale, butte giù del buon canale, Per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, tra le onde e le rotondi, oramai sorgita a fonte. Per Giappesa, per Giappesa, per la monta e la battese, tra le onde e le rotondi, oramai sorgita a fonte, e per Giappese, per Giappese, per la Montelabatese. E il Messia è partito per Pese, e il Messia dice ancora questo è in servede. E' sparito, sono su Mercedes, girato da più di un mese, per la Montelabatese. Grazie.